Ha incitato il figlio a picchiare due compagni di scuola, minacciando poi di vendicarsi sulle famiglie e sui bambini stessi. Protagonista una mamma a 31enne di uno studente di 11 anni che frequenta la prima media in una scuola di Padova. Martedì mattina due ragazzini di 12 anni, prima di entrare in classe, notano per terra un braccialetto dorato. Chiedono ad alcuni compagni se sia loro e non trovando il proprietario vanno in aula. Poco dopo la preside chiede agli alunni se qualcuno avesse trovato il braccialetto che era stato smarrito poco prima da un ragazzino di prima media. I due dodicenni lo restituiscono subito, felici di aver contribuito a ritrovarlo. Ma la situazione degenera l'uscita da scuola quando l'undicenne aggredisce i due compagni tirando pugni e calci al volto e alla testa vicino a lui la mamma che lo incitava a continuare. I genitori dei due dodicenni picchiati si sono rivolti ai carabinieri che dopo gli accertamenti hanno denunciato la 31enne per istigazione e minacce.